La strategia del Piemonte per lo sviluppo delle montagne supporta i territori montani e i suoi abitanti verso un futuro più sostenibile. Propone un cambiamento di prospettiva, capace di produrre effetti positivi nella vita delle persone e delle comunità, ascoltandone i bisogni e sperimentando nuovi modi di collaborare. Integrazione, dialogo e confronto sono le parole chiave della strategia. Una sinergia efficace tra politiche, risorse, territori e attori. Nella visione della strategia, le montagne sono considerate come luogo dell'abitare, migliorando le condizioni di vivibilità e residenzialità. Risorsa, valorizzando il capitale naturale come bene comune. Opportunità, supportando lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale. Luogo di saperi e relazioni, valorizzando le competenze delle persone e il capitale sociale. Migliorare la qualità della vita di residenti e turisti e rivitalizzare i borghi montani sono tra le priorità della strategia per le montagne del Piemonte. Con questi obiettivi, la Regione Piemonte ha lanciato il progetto Botteghe dei Servizi. Il progetto Botteghe dei Servizi valorizza e sostiene gli esercizi commerciali situati nei piccoli comuni di montagna, che affiancano alla vendita di beni alimentari e di prima necessità l'offerta di servizi di utilità pubblica. Le botteghe sono realtà multifunzionali, punti di aggregazione e di presidio, fondamentali per favorire l'abitare nei territori montani. Tutto questo è la strategia della Regione Piemonte, visioni e azioni per le nostre montagne. Per maggiori informazioni visita il sito www.regione.piemonte.it